Ciao, 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 grazie di essere qui con me oggi, oggi ti voglio ospitare a mantenere la tua attenzione per 15 minuti, infatti in questo video farò 15 trigger, 15 suoni, 15 suoni o comunque movimenti rilassanti che durano un minuto ciascuno, cominciamo la tastiera in questo video, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti andiamo avanti, lead, sound, suona del coperchio grazie a tutti adesso per te, adesso per te un libro che fa un suono stupendo grazie a tutti questo libro mi è stato regalato da una mia amica parecchi anni fa ed è un momento di età la pagina in inglese e la pagina in italiano grazie a tutti io sono follemente innamorata del suono di questa pozzetta grazie a tutti seguendo trigger, seguo le luce seguila mentre fa tutti questi movimenti si avvicina e si allontana e si avvicina e si allontana, 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 si avvicina e si allontana. di non seguirla continua seguila non si avvicina si allunga non lontana non lontana non lontana non lontana io adoro questo suono il suono della carta che si usa per incarpare le cose che si usa come interno delle borsette questa è di tiger è di più che 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 Scriverai questo commento alla fine Grazie a tutti Non so tu mi si posso fare Nove 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 Ora ho un suono un po' particolare perché saranno di mouth sounds filtrati con... un po' particolare buongiorno, cosa posso fare per lei? ok, le serve una scatola di pasticcini da portare in compleanno allora io le volevo proporre questa scatola che è proprio già fatta e ha tutti 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 i pasticcini diversi adesso la apro e gliela faccio vedere già intanto la scatolina è bellissima con tutti questi cuoi quindi è proprio già un regalo incartato uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove dolcetti, dolcetti, dolcetti fra cui uno, due, tre pezzettini di torta, torta, torta uno, due, tre cupcake e uno, due, tre cheesecake perfetto allora gliene faccio vedere uno nuovo subito arrivederci questo è un trigger molto particolare che vi faccio assolutamente solo 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 per il suono e approfittando di questo trigger volevo chiedervi questa è al mango e volevo chiederti dopo aver visto quegli animali nel posto che hai deciso vorresti bere un succo al frutto della passione? un succo al cocco o un succo al mango? dimmi nei commenti così mi dimostrerei che sei arrivato fin qui ok con queste non incito assolutamente nessuno a fumare e queste ne fumerò boh cinque sfapate una volta al mese quindi niente e comunque non vincito a farlo in ogni caso non è una buona abitudine ma fa un suono meraviglioso non vincito a farlo in ogni caso vorrei vorrei l louder come frappare adesso v per f f Sì 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 Adoro Questo suono è troppo troppo bello Forse il mio preferito di tutti questi Sì No vabbè anche i cartose No vabbè anche gli altri sono bellissimi Posso scegliere Suono delle mani Sì 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 Sì